Al bando di progettazione per il restauro di questo edificio per il centro del restauro hanno partecipato tanti progettisti. Il bando è stato vinto da un gruppo di progettisti, in parte torinesi, che sono il professor De Rossi e Giorgio Fea, poi ingegneri di Milano, il ricordo Guenzani e anche Boris Podrecca, architetto austriaco. Loro avevano come input il fatto di rispettare al massimo i volumi, perché la sovrintendenza intendeva che non ci fossero delle situazioni, delle superfettazioni di cemento armato che potessero in qualche modo non essere reversibili nel tempo. Anche questa passerella sotto la quale ci troviamo è una passerella fatta in ferro, mettendo questi pali dentro come dei bicchieri e quindi anche questo è un elemento che serve per poter passare da una parte all'altra senza bagnarsi, ma che è reversibile. Questo è stato l'input che è stato dato ai professionisti che hanno vinto il bando.